Una giornata interamente dedicata alla ricerca. Torna a Bari all'interno del Parco Rossani venerdì 30 settembre dalle ore 11 e fino a mezzanotte, la notte dei ricercatori e delle ricercatrici. Manifestazione indetta dall'Unione Europea dal 2005 per promuovere i temi della ricerca e dell'innovazione creando un contatto ravvicinato tra i cittadini con i protagonisti della ricerca. Si illumina la notte con la ricerca che ha illuminato in questi anni le speranze dei cittadini per le questioni pandemiche e adesso fa vedere e mette in vetrina tutto quello che la ricerca significa che poi allude direttamente a un miglioramento della qualità della vita. E' bene che nelle città si illuminino i fari su questi eventi che conseguentemente miglioreranno la vita sul nostro pianeta. Penso che sia la stagione giusta. Saranno allestiti 32 stand all'interno dei quali ricercatori e ricercatrici dei 5 enti organizzatori tra cui l'Università degli Studi e il Politecnico di Bari, la Libera Università del Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Fisica con il supporto di Istat e Pirelli saranno a disposizione di visitatori per raccontare i risultati delle loro ricerche. Nella giornata si susseguiranno diversi eventi rivolti ad adulti e bambini come giochi di scienza, conferenze, dibattiti e visite guidate nei laboratori. E' un appuntamento imperdibile per la città di Bari, per sentirsi profondamente europei perché dobbiamo ricordarci che la Notte Europea dei Ricercatori è una manifestazione presente in tutta Europa e noi insieme all'Università del Territorio, quindi alla LUM, all'Università di Bari e al Politecnico, vogliamo ricordare alla città, ai cittadini ma soprattutto ai più piccoli, l'importanza della ricerca. Venerdì, nel spazio riqualificato del Parco Russani, i ricercatori delle nostre università presenteranno talvolta anche in forma ludica le loro scoperte, le loro attività proprio per far comprendere all'intera città quanto è importante l'attività che queste persone fanno, che ricade non solo sul mondo della ricerca ma su tutti noi. Intanto la consapevolezza che il mondo della ricerca è a disposizione della comunità e quindi è parte integrante ed è pensato sullo sviluppo. Proprio per questo i temi centrali sono poi quelli della transizione ecologica, della sostenibilità, del cambiamento, dell'innovazione, della trasformazione digitale e anche di tutto quello che sostanzialmente è collegato, quindi dalle tematiche di criptovalute piuttosto a quelle che possono essere anche scienze magari anche relativamente all'ambiente, alla salute, all'identificazione, di cui comunque far capire quello che noi facciamo ogni giorno. Abbiamo circa 13 centri di ricerca in tutto il mondo con 2300 persone e abbiamo appena aperto a Bari il primo centro di ricerca nell'ambito delle soluzioni digitali. Per questo motivo oggi siamo qui perché pensiamo che questo territorio ha dei talenti, ha un bacino universitario molto ricco e ha dei centri di eccellenza nella ricerca e quindi contiamo di camminare insieme.